Io mi domando perché mi obbligano a fare le UHC per sostituire le altre persone Non sono capace di fare niente di queste cose Però siamo qua Oh lo hai offerto ieri, bugiardo Sta zitto, è la mia intro Siamo qui insieme a tantissima gente Per iniziare questa fantastica UHC Anche se non sono capace Inizieremo con mezzo cuore in meno per colpa di Leukav Grazie Leukav, gentilissimo E niente, sono questi i giocatori E il nostro obiettivo sarà morire nel secondo episodio e non nel primo No Scusa, sinceramente una volta devo morire per recuperare tutta la vita Cioè se ho tipo tre cuori, muoio, così ne ho sette Va bene, nel secondo puoi farlo Le regole verranno spiegate in enfasi da Gabuso Quindi non c'ho enfasi anzi Ho sbagliato l'accento No, no, dai, c'è il trailer, non ho voglia, sono stato No, ok, dai, va bene Quando saremo là a branchminare ci direi Ah, non si può mai chiamare E non ci fa E non ci fa Ho trovato una melopina, no, non la puoi usare Perché no? Tanto comunque bastava controllare E controllavi in tutte le casse No, non c'è, perfetto, va bene No, non c'è Va bene, la prossima WKC la fai tu, va bene Ok Basta cambiare le loot table, non è tanto difficile, Gabbo Io voglio stare in mezzo, vai via Anzi no, Gabuso in mezzo, scusa È l'unico no youtuber, è specularità Però io voglio arrivare al mio posto No, questo è il mio adesso Adesso stiamo due insieme No, stiamo in tre assi Ma che palle Uffa Six and a half hours later Comunque WKC per chiarezza significa Umberto ha citato Esatto O Ugo ha citato, ci sta di più Ugo Eh, ragazzi c'è uno zombie Yeah, siamo partiti Con uno zombie Giusto Ok Ops Inventory tweaks Che mi cambia le uova Nell'inventario effettivamente Comunque fatevi dire Che il timer in bold Si può vedere In blood, là in bold Quella roba là Bold Constante è fissato col bold Constante vogliamo bene ma Eh, eh La prossima volta i command Li faccio io Esatto Eh Ok Ehm Allora Io vado a cioppare un altro po' di alberi laggiù Vai te agli alberi? Vuoi la mia ascia? Tanto io non la faccio No, ce l'ho già Io ce l'ho già una ascia Io sono qui a valle Quindi mi sa che Prendo cobblestone per tutti Quanto legno ci serve? Scusa Io ne ho già uno stack praticamente Eh Legno non è che ci serve molto Ci serve più che altro tante mele Ah, ok Eh Gabuso Età della pietra Eh Ma ragazzi La stris mezzo cuore No, davvero No Raga ho tre mele Io una Uh, altra mela Due Le mele sono Raga però Bisognerebbe anche ucciderle le galline Piuttosto per le piume Eh lo so Infatti per quello Io le ho spawnate Le ho già uccise No Le uova Così le duplicavamo Facevano una farm di polli Ma Tutti fissato con le farm Bis Facciamo una cosa Tu in questo walk Ha citato la redstone Che trovi la dai a me Va bene La uso io Per la costruzione Ok Stai in castigo Mi dispiace Tra l'altro Bis Non puoi farlo Piccoli spoiler Nascono Al centro c'è un carretto Western Soltanto con la redstone È tutto per Ah raga Ma non l'abbiamo detto Non l'abbiamo detto Ma abbiamo una texture Customizzata Cioè proprio Ah io no Non l'ho più messa alla fine Hai scritto Devi metterla No no Non la voglio Non la voglio Mi confonde No Mettila Sto strollando No ce l'ho Nel frattempo Piccolo Bisolo Ti faccio gli attrezzi A te ma Tu hai la spy qualcosa Tipo di Attrezzi tu No no Bis quante me le hai Io ho due Ok io ne ho quattro Dove le droppate qua Dalla crafting table Hai droppato pure le uova Prendi No perché muoio È meglio se le tiene una persona sola Ma 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 Aspetta c'è un piccignacolo Grazie Raga ma lo sento anche i miei zombie Ma è qua Ma raga sta calando la notte Ehm Cerchiamo di prendere Raga ma ho sei mele Tra l'altro io non ho ancora perso fame Eh ho parlato Anche io Io non ho perso a mezza in questo Anche io Eh vabbè però Più conviene scendere a valle E anche abbastanza Io sono già a valle Dove cazzo Ho preso mezzo cuore di danno Non sono capace di Vedere Eh cosa vogliamo fare Vogliamo metterci qua Vuoi scavare così di ignoranza Eh sì Vuoi scavare così di ignoranza Anche perché arrivano i mob Posso fare la farm di pesca Con il primo ferro Vero No basta Ma io Non posso scavare È morto No 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 Cosa Ecco Sapevo Mino Guardate Mino Raga Mino ha già metà vita Mino ha metà vita Mamma mia Ragazzi io mi sa che si continuano così Scendi 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 Al secondo episodio E mi suicido io Madonna quanto oro da lasciare indietro Eh vabbè adesso troviamo il ferro Io ho già il ferro comunque Ah il ferro buono Eh allora Dalla me che lo metto C'è il fuoco Non c'è il fuoco amico vero? No 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 Ok quindi se lo colpisco Non gli faccio niente Mamma mia mi sono già spaventato Dov'è una fornace Gabbo? Su in cima Io direi Io scusami Io ho ci buttato i sapling Allora Io per me uno scudolo voglio fare Mi spiace Io non sono capace di usarlo Quindi tanto vale Comunque se venite in giù Vi sto lasciando indietro Tutti i minerali che trovo Ok 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 In modo che se muoio Almeno li avete Ok Ok io sto scendendo No abisa che livello sei? Io sono in una caverna Sono da abisa E siamo al 32 I lapis Possono essere utili? Per l'esperienza Per l'esperienza Ok vieni che di qua Che ci sono i diamanti Veramente Ci sono i diamanti? Il livello dei diamanti Sì io sono già pieno di lapis Ah tanto il creeper C'è un creeper dove c'è la luce C'è creeper Tra tra Tanto lo scudo Fermo fermo Se lo vedi Ma non so memoria Questa caverna Ormai l'ho già esplorata È qua Eccolo qua il creeper Ce l'ho io ce l'ho io Tra Grazie Venga Stiamo andando abbastanza veloci Oh già è finito il primo video comunque Veramente Eh già Quindi beh abbiamo trovato dei lapis Quindi Ancora Mamma mia Botto buono Beh veramente Io ho già mezzo stack Anzi di più di mezzo stack di lapis Quindi per questo video è tutto Noi ci vediamo in un prossimo video Che sarà domani Noi ci vediamo Per l'appunto Nel prossimo video Ciao 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 Ciao